Ragazzi, bentornati alle mie lezioni. Allora, vado a rispondere a due domande che mi sono state fatte sotto a questo, diciamo, sondaggio, dove chiedevo, appunto, quali sono gli argomenti che volete approfondire, che volete che io affronti nelle prossime lezioni. Quindi invito tutti a mettere un commentino. E vado a rispondere a due domande che più o meno, diciamo, si possono unire, che sono quelle di Fabio Lino e Alessandro. Fabio Lino mi chiede come ti approccia alla lettura sul basso, mentre Alessandro mi chiede un approfondimento su pause semi-minime, puntate, sosfeggio di ritmo, insomma. Allora, ovviamente come sempre spiegare un argomento così vasto in una lezione è impossibile. Quindi vi dico qual è il mio approccio alla lettura, qual è, secondo me, quanto è importante saper leggere, come ho affrontato al mio tempo il discorso lettura, quali sono gli errori, secondo me, da evitare. Allora, la lettura, secondo me, per ogni musicista è importante. È fondamentale per chi ovviamente suona esclusivamente o quasi roba scritta, quindi, ad esempio, musicista classico che non sa leggere, scusate, musicista classico che non sa leggere, non entra nemmeno in conservatorio. Ma anche per noi, che comunque, diciamo che la lettura è meno richiesta in genere, secondo me, a mio avviso, deve far parte del nostro bagaglio musicale, il nostro bagaglio di conoscenza della musica, perché, diciamo che, innanzitutto, non si sa mai cosa ci presenta la vita, come a me, ad esempio, è capitato in tarda età di suonare con gli spartiti davanti, fino a qualche anno prima non l'avrei mai nemmeno concepito questo discorso, però è lavoro, è lavoro. E soprattutto, non si può, non si può più vedere queste cavolo di tab sotto esercizi, sotto trascrizioni. Io, purtroppo, le metto, perché altrimenti so già che molte persone non mi avrebbero... Non ho guanto per imitare Scott Devine, ma perché fa un freddo si muore, quindi lo premetto subito. Io le inserisco, queste tab, perché so già che, appunto, chi non è errato per la lettura, non comprerebbe libri, non mi seguirebbe, farebbe fatica a seguire esercizi, eccetera. Quindi io le metto, ma prima o poi prenderò la decisione. Perché questo? Perché io sono uno tra quelli che si era abituato, i primi anni che suonavo, con queste tab, che poi spesso sono anche del tutto sbagliate, diciamo, e poi, quando invece ho dovuto imparare a leggere, ho dovuto comunque leggere, prezionare, in orchestra, eccetera, sono trovato in difficoltà clamorosa. E senza queste tab ero nel panico. Quindi, primo consiglio per chi si vuole avvicinare alla lettura, cancellare, come mettere col bianchetto, con un pennarello, cancellare le tab, a qualsiasi cosa suonata. Secondo consiglio, partire, secondo me è meglio partire dal soffeggio ritmico. Quindi scordarsi un attimo le note, le note sul pentagramma, va benissimo una nota sola, prendo un LA. Mi prendo serie di esercizi, ritmici, quindi sullo spartito vedete solo una nota, con le pause, con durate diverse, eccetera, e mi studio perfettamente ogni figura ritmica. Cosa vuol dire? Vuol dire che io, quando poi andrò a leggere degli spartiti, sarò avvantaggiato perché conosco già ogni figura ritmica e so come suona, quindi le terzine, i sedicesimi, l'ottavi, le quintine, le sestine, le pause, fondamentali come le note sono le pause. Quindi, primo step è quello del soffeggio ritmico, ovvero, io mi metto un esercizio davanti, o me lo invento, o si trova di tutto, libri compresi, anzi, il libro soffeggio ritmico, sembra si chiami proprio, della Lizend, perfetto. Ne approfitto per dirvelo perché è quello con cui ho iniziato. Quindi, questo spartito con una nota sola, davanti, posso farlo sia, ad esempio, battendo le mani, posso farlo parlato, posso farlo suonato, con lo strumento, quindi un click, un metronomo, e mi suonano queste figure. L'importante è affrontare una figura alla volta, ovvero lavoro sei mesi sugli ottavi, ma quell'ottavi poi devono essere proprio parte del mio alfabeto musicale al cento per cento, quindi ottavi, pause nel mezzo, a velocità diverse, eccetera, eccetera. Poi per dire terzine di quarti, terzine di ottavi, ogni figura ha il suo tempo, e poi si inizia a mescolarle. Quindi, in una battuta, magari due ottavi, una pausa di un quarto, una terzina, eccetera, eccetera. Questo è il primo consiglio. Altro consiglio, quando poi si passa al solfeggio, diciamo, parlato, solfeggio cantato, eccetera, ovvero il solfeggio comunque con le note, con varie note, il mio consiglio, e anzi, l'errore che ho fatto io, è quello di solfeggiare cose non musicali, quindi cose manciate di note e pause buttate lì a caso, ma che se poi le trasportiamo sullo strumento non avevano senso, il consiglio mio, invece, è quello di prendere, che ne so, parti di musica classica, melodie, temi, jazz, melodie di colonne sonore, qualsiasi cosa, purché sia musicale, partendo ovviamente dal semplice, quindi iniziando a riconoscere le note, ma più che altro gli intervalli, perché un'altra cosa fondamentale è quando si legge uno spartito e ci sono tantissime note, tantissime, diciamo, è parecchio nero, vedete quei gruppi con tante note, se io mi metto a dire ok, questo è un mi, questo è un do, questo è un la, questo è un si, non si arriva al fondo, io devo iniziare subito a riconoscere gli intervalli, ovvero, so che in chiave di basso sul secondo spazio bianco c'è il do, se la nota dopo è allo spazio bianco sopra, so già che è una terza, quindi poi, che sia una terza minore una terza maggiore ci si arriva dopo, però so già che l'intervallo è di terza, oppure se se ho la nota di do e poi ho la nota successiva sul rigo appena sopra, so già che è una seconda, quindi un re, quindi partire subito con l'idea di riconoscere gli intervalli sullo spartito, questo è fondamentale, secondo me, correggetemi se sbaglio, però secondo me chi legge bene, legge molto bene, a prima vista anche, secondo me si aiuta per forza qualsiasi strumento suoni riconoscendo gli intervalli e trasportandoli su proprio strumento, ovvero il pianista secondo me è impossibile che legga le note, cioè che legga che pensi alle note, soprattutto quando deve leggere su due righi diversi, semplicemente pensa a quali sono gli intervalli e quindi a quale dita premere in determinate circostanze, quindi se ho diciamo con il dito mignolo sul Do e vedo la nota dopo a una terza distanza l'associo magari al terzo dito e suono una terza questo secondo me è un po' il ragionamento di un pianista oppure noi quando leggiamo intanto si suona diversamente da quando non leggiamo questo è fuori discussione perché siamo concentrati appunto su una cosa scritta quindi una cosa ben precisa e da un lato non abbiamo più la libertà che abbiamo se invece non si legge dall'altro lato è una cosa molto molto utile sia a livello ritmico perché non si può sgarrare bisogna suonare quello quindi se c'è le pause si fa le pause c'è le note si fanno le note ma è una cosa che ci da ci arricchisce musicalmente a livello e poi per quanto mi riguarda che non sono un lettore diciamo a livello ad esempio di mia moglie fare conservatorio di una vita leggere un spartito come se leggesse il giornale però con l'esperienza e con la volontà sono arrivato a un buon livello almeno al livello che mi serve magari un prima vista io faccio fatica però se guardo prima le figure un po' più complesse bene o male un pezzo a fine lo porto perché le esigenze che ho avuto io finora sono queste quindi non è che ho approfondito proprio in modo clamoroso la lettura sono arrivato fin dove almeno al primo momento mi serve altro consiglio non limitarsi a leggere la chiave di basso perché perché non è detto che si suoni sempre in quella chiave può essere benissimo che dobbiamo fare le parti in cui alcune note le troviamo scritte in chiave di violino per esempio oppure se un giorno dobbiamo fare le cose a pianoforte serve un'altra chiave quindi almeno due chiavi vanno conosciute per forza quindi direi chiave di basso e chiave di violino a pari partire ovviamente da una però quindi la lettura io la ritengo fondamentale proprio perché siamo musicisti quindi deve far parte del nostro bagaglio le conoscenze perché secondo me un musicista che non sa leggere uno spartito è un po' come un calciatore che non sa fare due palleggi di fila io la vedo un po' così e poi ripeto se io non avessi affrontato il discorso lettura tantissimi lavori tantissime occasioni mi sono capitate non l'avrei potute nemmeno prendere in considerazione quindi il mio consiglio principale è quello di dedicare almeno che ne so mezz'ora giorno sulla lettura anche quando non abbiamo lo strumento a disposizione quindi questo è un vantaggio perché per esempio se io devo affrontare un discorso prettamente tecnico per dire devo lavorare sulla mano destra se non ho il basso dietro faccio poco invece la lettura anche se sono un mese ai caraibi e il basso per fortuna non me lo son portato dietro posso comunque una mezz'oretta al giorno per esempio mettermi lì e leggere degli spartiti oppure leggere appunto i sospeggi ritmici una cosa che non ho mai affrontato però tutto fa e anzi se lo fate è meglio è il sospeggio cantato che invece aiuta tantissimo però io essendo stonato come non so cosa non l'ho mai affrontato più di tanto diciamo così però non sottovalutate nemmeno questa parte qui allora ragazzi questo è un po' il mio approccio diciamo anzi ne approfitto per salutare e ringraziare Alessia semmai vedrà questo video perché è lei che mi ha fatto un culo si può dire comunque così sul sospeggio e non finirò mai di ringraziarla perché non ci fosse stata lei con la sua pazienza non sarei arrivato a livello che sono se volete approfondire ancora il discorso vi posso fornire anche innanzitutto il link a quel libro che dicevo prima e poi anche una serie magari di esercizi per cominciare o esercizi un po' più complessi ricordatevi ricordatevi sempre di suonare solfeggi musicali quindi melodie parti musicali qualsiasi genere accompagnamenti a soli e questo vi sarà utile anche per un eventuale discorso di trascrizione come ho fatto io negli ultimi due anni ho pubblicato due libri di trascrizioni e ovviamente se non avessi saputo scrivere e leggere la musica non sarebbe stato possibile spero di aver risposto anche a queste due domande di Fabio Fabiolino e Alessandro se ci sono ancora dubbi basta scrivere e si vede di riaffrontare meglio l'argomento per oggi vi saluto ragazzi buona serata al prossimo video